tascapane croato originale ex guerra indipendenza 1991 dato d'ordinanza a tutti i militari veniva portato sul fianco tramite questa tracolla regolabile poteva contenere viveri munizioni materiali vari si apre a velcro tre velcri semplicissimo fattura molto semplificata tra collina in cotone l'intero corpo tascapane tutto un cotone antistrappo molto resistente non ha fori non ha fuori di scolo niente semplicissimo due linguette per contenere al lato alle volte potremmo trovare internamente scritte lasciate dai militari abbastanza capiente può contenere due scatole la classica etichetta 100% pamuk cotone in croato la ditta di produzione sifra leggerissimo lavabile anche in lavatrice alla prossima